Vendevano online auto, trattori, escavatori, scooter, ma tutti i beni erano in realtà inesistenti. Per questo, 18 persone sono state arrestate, 8 sono ai domiciliari, nell'ambito dell'operazione Nassa 3.0, condotta dalla Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, sostituzione di persona e trattamento illecito dei dati personali. Tutti, secondo i PM, appartenevano a un sodalizio criminale operante sui versanti ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Gli arresti sono stati eseguiti a Siderno, Gioiosa Ionica, Mammola, Locri, Anoia, Galatro e Giffone e anche uno in provincia di Modena. Secondo gli inquirenti, gli arrestati avrebbero utilizzato una serie di ingegnosi stratagemmi per coprire le proprie effettive identità e un modus operandi organizzato e complesso attraverso il quale gli acquirenti si sarebbero convinti della bontà della compravendita. Le vittime versavano l'importo su carte di caricabili o conti bancari, risultati intestati ad alcuni indagati, senza però poi ricevere i beni. La truffa, dal 2016 al 2018, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro a fronte di oltre 85 episodi individuati. Numerosi sono i rapporti finanziari, conti correnti, carte di credito, debito e prepagate, utilizzati per far confluire le somme versate dalle vittime. Numerosi gli apparecchi telefonici, le utenze e le simcard impiegati per la conduzione e l'esecuzione delle trattative e per lo scambio di informazioni finalizzate all'inserimento degli annunci sulle diverse piattaforme di e-commerce utilizzate e ritenute fittizie dagli investigatori.